Salve, siete sul canale Pratiche Sartoriali alla Moda. Vi ricordiamo che i nostri video escono tre volte a settimana. Il tema di oggi non è dedicato alla sartoria. Piano piano sul nostro canale si è fatto spazio un'altra rubrica, ossia quella dedicata alla nostra salute. Come rimanere in forma, mangiare bene, eccetera eccetera. A mio avviso questo è un tema molto importante e bisogna darle spazio. Vorrei condividere con voi alcune riflessioni basate sulla mia vita e sulla mia esperienza. Oggi ognuno di noi deve per prima pensare alla propria salute. Se finora qualcuno non l'avesse fatto, il momento storico che viviamo ci ha costretti di farlo. Tutti noi senza eccezioni. E anche io quando penso agli anni passati e come ho vissuto, mi rendo conto che ho sempre rispettato alcuni principi. E proprio di questo concetto vorrei parlarvi oggi. Uno in particolare. La domanda è, su cosa si basa la salute? Qualcuno direbbe sull'immunità, altro direbbe sulla sana alimentazione, altro ancora sull'approccio positivo. E tutti avete ragione, ma esiste anche qualcos'altro. Il punto è che ho iniziato a fare esercizi al mattino e sono andata online a guardare diversi tutorial. Ho trovato uno che spiegava gli esercizi senza mai parlare del dolore, delle malattie, dei problemi. Ho guardato il video fino alla fine e ho realizzato che questo corrisponde al 100% al mio caso. Io nella mia vita non mi sono mai, e dico mai, concentrata, non ho mai parlato di dolori e di malattie. Anche da noi, nella nostra azienda, non si parla di malattie e dolori. E forse per questo motivo siamo tutti sani e siamo tutti bene. Credo che quando inizia a parlare di malattie e dolori, è come se bloccasse l'energia negativa, come se desse via libera alle cose brutte. Non dico che non esistono le malattie, ma esistono diversi approcci. Ad esempio, se uno ha male, inizia a chiamare tutti i parenti a raccontare che non si sente bene, poi va a lavorare anche lì, parla solo di quello. Oppure magari senti che c'è qualcuno che non va, ma lo tieni per te, stringi i denti e non vai a raccontare in giro. Io sono del secondo gruppo. Ho vissuto tutta la mia vita così. E proprio questa è una delle cose che ritengo importante. Come nascono le malattie? Si incontrano due persone, diciamo due amiche. Una inizia a raccontare all'altra. Ah, mi fa male la gamba, mi fa male il braccio. Sai che la nostra amica sei malata? E così via. Questo tema ultimamente è diventato dominante nelle nostre conversazioni. Si parla più delle malattie che di moda o insomma di altre cose. In sostanza, il video che ho guardato ha confermato la mia teoria. Meno ti concentri, meno parli delle malattie, diminuisce la probabilità che arrivino da te. Ani fa, quando da noi c'era l'influenza, la via aria si chiamava, mi sembra, conoscevo tante persone che si sono ammalate, ma da me non si è mai fermata, come se mi passasse di fianco e non mi ha mai toccata. Penso che quando due persone si incontrano, esistano cose molto più interessanti di cui parlare. Certo, non è vietato raccontare come stanno le cose nella tua vita, non devi nascondere nulla, ma l'idea è di non concentrarsi sulle cose negative. Si incontrano due persone e iniziano a raccontarsi chi dove ha male, chi come e quando si è ammalato, come si è curato, da che medici è andato, quale altro amico o parente è ammalato, eccetera. E tutta questa energia si espande, cresce e cresce e prende forza. Ti fa male qualcosa, ha starnutito o tossito due volte e basta, ti dichiari malato. Senza accorgervi potete far crescere in un mondo esponenziale l'energia negativa e non serve. Melo chiudere la bocca e non farla uscire, non dare strada libera al negativo e al male. Almeno io faccio sempre, ma da sempre così. Quando è iniziata questa pandemia e nei primi mesi, quando tutti erano spaventati, io ho deciso di mettere nei limiti nei miei pensieri. Mi sono concentrata sul fatto che nessuno di noi deve ammalarsi, che la nostra città in generale deve passare questo periodo nel miglior modo possibile. Ho deciso di continuare a lavorare. Mi chiedevano tutti, ma come continuo a lavorare così? Non so cos'altro fare, devo impegnarmi con qualcosa di diverso, non posso stare senza far nulla e stare a casa in quarantena. E nel limite del consentito abbiamo continuato a lavorare e nessuno di noi si è ammalato. Sinceramente non avrei mai pensato di questo se non avessi visto quel video e sono completamente d'accordo. Non bisogna dare spazio all'energia negativa. C'è gente che parla delle proprie malattie quasi con amore, dove li fa male, come si cura eccetera. C'era un video che diceva quando hai male al ginocchio di metterlo sotto acqua fredda. Una cosa semplice. Non mi soffermo se è giusto o sbagliato. L'idea è che se hai male di cercare di fartelo passare. Non iniziare a dire mi fa male il ginocchio allora non posso muovere, non posso fare questo o quell'altro, non devo prendere freddo, non devo fare nessuna attività, devo stare sdraiato a letto perché sono malato. E tutto questo solo per un ginocchio. L'idea non è di far finta che non esistesse, ma cercare di non ingrandire il problema, di non farlo più grande di quello che è. Cioè non creare un elefante da una formica, ecco. Perché se continuo a lamentarti e a concentrarti su una malattia, vi garantisco che è la strada giusta per far nascere altre malattie. Non so come la pensate voi, ma spero tanto che questo mio principio, questo mio modo di vedere le cose possa esservi d'aiuto, che possiate prendere spunto ed è per questo motivo che ho deciso di dedicare un video a questo tema. Potevo benissimo andare avanti per la mia strada e continuare a non parlare di malattie e cose brutte, ma ho pensato che questo mio punto di vista possa essere d'aiuto per qualcuno. È un dato di fatto. Nella mia vita non mi soffermo mai sulle malattie, sui dolori e simili. Penso anche che la mia famiglia non mi ha mai sentito lamentarmi. Rarissimo avrò detto qualche parola, dovrei stare proprio malissimo per dire qualcosa. E non potrei mai mettermi davanti alla videocamera e parlare di malattie, dolori e cure. È un tema che non mi appartiene e non saprei neanche cosa dire. Preferisco espandere positività che negatività. Che vi deve dire? Sono fatta così, non amo questo tema, non mi piace parlarmi, non mi piace, punto, basta. Non mi può cambiare nessuno, non mi piace, non parlo, punto e basta. Oggi ho condiviso con voi un mio punto di vista. Scrivete cosa ne pensate. E sapete che per me fa parte del mio modo di vivere. Non ho iniziato a farlo quando è arrivata la pandemia. Ho fatto così per una vita intera. Sarei molto felice se queste mie riflessioni sono riuscita ad aiutare anche solo una di voi a cambiare il suo punto di vista e stare meglio. In questo modo rimarremo sempre belli e potremo fare i nostri abiti. La creatività è il nostro alleato principale nel star bene. In tutto il caos che ci circonda bisogna trovare il modo di stare meglio e mantenere il buon umore. Ho sempre cercato di sostenere le donne, le mie colleghe al lavoro. E adesso sono felice di avere la possibilità di farlo da questo canale che mi dà la possibilità di arrivare a tantissime persone nelle loro case. Con questo vi salute. Ricordatevi di essere diversi ogni giorno della vostra vita. È sempre straordinario. Mettete like, fateci delle domande, commentate, condividete i nostri video e iscrivetevi al nostro canale e perché no, comprate i nostri corsi e imparate insieme a noi. Con voi siamo stati noi, Paus Cirna Mikhailovna e tutto il nostro team.